Allora, il teatro ha duemila anni di storia, non lo so, il cinema c'era meno di 150, per forza, all'inizio il cinema serviva più per documentazione, insomma, no, all'inizio il treno che arriva per i fratelli Lumiere, no, quel treno spaventoso, era documentare la realtà, ma poi logicamente subito è arrivato che invece era un mezzo straordinario per raccontare storia. Siccome noi tutti abbiamo bisogno di storie, perché abitiamo su un piccolo coso dell'universo e siamo piccolissimi noi nel nostro piccolo, le storie ci aiutano in qualche modo a vivere. E quindi questo bisogno di raccontare storia, cioè il cinema è forte, all'inizio ha preso dal teatro, ma poi va per conto suo.